ora sono molto felice di accettare la tua proposta un grande evento fatto da pirati per i pirati la fiera mondiale pirata la festa che raduna i pirati da tutto il mondo non vi viene voglia di risolvere l'enigma e afferrare finalmente con le vostre mani inestimabile tesoro ma è giunto il momento per te di dar sfogo alle tue ambizioni che diavolo pensi di fare un ex membro dell'equipaggio della banda pirata di roger cominciamo questa contraddistinguerà la mia nuova epoca con la mia forza io posso vincere da solo una forza straordinaria un pericolo che non lascia scappare one piece stampede il film grazie grazie grazie